Io sono Sonia Lavoratti, vengo da Firenze e lei è la mia modella Tina. Tina ha un prima e dopo di grande effetto, quindi appena abbiamo visto, brava la nostra lookmaker. L'hai acconciata tu? L'ho fatta Silvio, perché io sono makeup artist, quindi io gli ho dato le indicazioni e poi l'ha acconciata lei. E quale indicazione hai dato a Silvio? Io gli ho detto che volevo un carré e con questo sciuffo così romantico, perché comunque l'idea che volevo fare era di una ragazza bonton che esce il pomeriggio con le amiche, però appunto proprio questo look bonton. Il makeup è tuo allora? Sì. Bene, me lo racconti attentamente sulla scelta delle tue cromie. Sì, allora io ho appunto voluto fare dei chiaroscuri, anche perché lei ha questo mento che è un pochino coro. Lo sto vedendo anche nell'immagine dietro. Sì, appunto a questo mento un pochino corto, infatti ho cercato di levare l'ombra sotto, anche per riuscire a dare più luminosità proprio. Poi ho fatto qui con la terra un po' scurito per creare proprio questa profondità. Un contributo allo zigomo. Sì, sì, e anche qui, diciamo, sull'angolo della fronte, perché è una fronte molto spaziosa e quindi volevo creare più un chiaroscuro, proprio per restringere, diciamo, e quindi creare più luminosità nella zona della fronte. Infatti ho usato anche due fondotinta diversi, cioè praticamente ho usato un chiaro e poi nelle zone da scurire ho usato un fondotinta più scuro che poi ho caricato con la terra, per dare più questa profondità. Raccontaci un po' perché dovremmo sceglierti e perché è la scelta tua invece di partecipare al casting e al tuo insieme al lookmaker. Allora, diciamo che a me piace tantissimo questa trasmissione, l'ho vista e mi piaceva quando l'avevo vista, ma anche stando qui mi è piaciuto molto, cioè mi è piaciuto tutto. È un ambiente veramente bello e mi sono piaciute tutte le lezioni che ho sentito, i corsi, tutto, e mi appassiona proprio. Quindi vorrei tanto migliorare anche nei capelli perché diciamo che io ho fatto un corso di acconciatura, però per l'occasione preferivo indubbiamente affidarmi a chi proprio è un esperto. Ma guarda che a noi è sufficiente il tuo buon gusto perché poi per chi ti aiuta tu dai le diritte per come vuoi vedere, mi stavi raccontando perfettamente le ombre del make-up, altrettanto costruisci con le linee anche se non tagli e indubbiamente poi ci sono tutte le possibilità per poter migliorare. Sì, infatti è quello che ci tengo perché io vorrei proprio imparare anche. Allora l'accademia è un buon luogo per imparare perché è vero che ha intuito perché lei ha fatto un grande cambiamento. Le hai chiesto se taglierebbe i capelli dopo che si è vista così? Lei mi ha detto che li porta solo lunghi, mi ha detto appunto che le avevano consigliato anche delle parrucchiere di accorciarli, però lei non se la sentiva. E quindi lei non se la sentiva, io però ce la vedevo bene. Però la bellezza è una cosa che si conquista anche attraverso il ragionamento. Sì, io trovavo che lei fosse molto raffinata, quindi secondo me un effetto così lo rendeva. Io sono d'accordissimo con te e invito la tua modella a tenersi questa acconciatura per tutto il giorno e a specchiarsi in tutte le vetrine che incontra. Io devo scendere i ghizzi al mare, altrimenti... Comunque è un bel pensiero questo. Lo ringrazio. Sì, sono d'accordo con Maria, grazie. Queste capelli ti dono tantissimo. Hai fatto un lavoro veramente di un cambiamento notevole, molto bella. Il suo look è elegante, come dicevi era un look di buon ton di giorno, di andare a prendere un tè con un'amica. Esatto, l'idea era proprio quella. Yes, ok, bene. Bene, mi piacciono i colori che hai scelto e tutto è in armonia. Grazie. Grazie Ilaria e grazie a Tina. Grazie. Ok. Grazie. 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 Grazie.